E' anche gli invitati, voi bambini, alla cena del Signore. Ecco un aglietto di Dio che toglie i peccati del mondo. E' anche gli invitati, voi bambini, alla cena del Signore di Dio che toglie i peccati del mondo. Arrivano i miei piedi soltanto i bambini, quindi voi potete scegliarli. Atteniamo che lo facciano il loro primo incontro, il Signore del Signore di Dio che toglie i peccati del mondo. Possiamo stare in silenzio, sopra l'aria e la nuova voce. Grazie. 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 In questa cura di Comune ora vedeci a dunque che cerchiamo di raccarblicareci, ma seúngeremo il migliori del banco, mi non av weugar' davanti, non è una parte attrazione, ma da Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.